foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione sbaglio, due pacchetti mega da 50.000, cose varie e va bene c'è la squadra quella nuova con Sanchez, Sergio Ramos, Royce e vi faccio vedere insieme perché io non so chi c'è sta raga abbiamo un Nainggolan, Cimione Costa, ammazza ragazzi che bello, Amsic questi sono buoni anche per il nostro Rotation One, abbiamo anche Lemar e abbiamo anche appunto Lopez, bella raga, mi piace mi piace tanto, abbiamo anche Metteke, buonissimo, raga vabbè è nudo dirvi che vorrei trovare tra questi qua, che sono i top ma anche un Amsic e Nainggolan non mi dispiacciono, però il resto sarebbe veramente qualcosa di spettacolare allora vediamo un attimino più che altro, abbiamo dei pacchetti che sono questi qua, quelli che abbiamo preso durante il corso dei draft e cose varie, non ci sono pacchetti speciali momentaneamente quindi per adesso ci andiamo a prendere appunto i nostri pacchetti Food Champions, vediamo un attimino signori che ci danno, eccoli qua, Sblem Food Champions Weekend League completato a oro 2, grazie mille mi dà un pacchetto oro rari e mi dà un pacchetto mega raro più 45.000 crediti, non è assolutamente male ragazzi anzi, anzi non è male come vedete qua sono appunto di nuovo qualificato quindi rimangono 17 ore e poi possiamo ripartire per qualificarci sempre più in alto allora, direi di andarci ad aprire signori, direi di andarci ad aprire immediatamente questi 5 pacchetti poi ovviamente attenderò che metteranno qualche altro pacchetto speciale qui appunto su, aspettarò che metteranno qualche pacchetto promo per andarci a continuare questo pack opening e momentaneamente mi apro questi qua poi vediamo quello che succederà pacchetto solo giocatori include 12 giocatori 2, 4 bronzo, 4 argento, 4 oro di cui 1 almeno è raro quindi apriamoci subito questo e vediamo un attimino primo pacchetto ci dà grazie grazie, veramente non dovevate ah no, ci dà il bronzo mortacci di pippo via, scartiamo tutto ragazzi questo è il mio pacchetto, una sola incredibile pacchetto oro rari 2 pacchetti me che sono quelli del Champions pacchetto oro premium maxi allora, pacchetto oro rari includici 12 giocatori almeno 12 ore tutti rari cioè, 12 oggetti scusate quindi, apriamoci signori vediamo un po', non ci dà neanche un top player, ma ci dà un informa cdc signori, va bene fernandez potevi darmi di meglio però ragazzi, è sempre su un pacchetto di regalo quindi, mamma mia, va benissimo un informa, eh ok, tutto oro, tutto raro vediamo quanto costa fernandez po', se mi dava subito tipo un qualcosa del genere tipo Sanchez, cose varie sarebbe stato il top mega pacchetti ce li apriamo dopo assolutamente dopo ci apriamo questi due oro premium maxi signori, vediamo un attimino primo pacchetto oro premium maxi che ci dà un giocatore oro appunto, un portiere che è schifo dell'Udinese mi dà carnesis altro pacchetto oro premium maxi vediamo un attimino sempre il giocatore oro che non ci dà di nuovo portiere mi ha rottato il cazzo con questi portieri oh guarda non è cattile ma va a cagare ragazzi adesso arriva il bello questi sono due mega pacchetti con 30 si 30 30 vuole favore a voi 18 rari almeno 26 oro primo pacchetto signori non ci dà un walcott non ci dà un informa non ci dà una leggenda non c'è niente ma ci dà un manzottino manzukic che non ce faccio un cazzo mi devi dare almeno un angolano un amsic mi devi dare appunto che andranno a mettere altri pacchetti speciali pacchetto raro dai un 83 baro 84 città coc del manchester quamata pacchetti sciapi ragazzi pacchetti sciapi è per quello che io voglio arrivare voglio arrivare appunto almeno a superare l'oro 1 arrivare tipo a fenomeno non so che cazzo è la cosa che ti danno il pacchetto food champions che il pacchetto food champions è qualcosa di incredibile ti danno veramente dei giocatori fantastici allora questi ci riteniamo madonna le forme fisiche mamma mia che buone questa è tutta roba buona ragazzi allora però aspettate un attimino allora martial ragazzi questo si vende tranquillamente intorno ai che è 30.000 credit quindi bam si vende subito quamata non so quanto si vende ma lo mettiamo in vendita lo stesso facciamo con bacca ragazzi io attendo che appunto metteranno i pacchetti promo oppure qualche altro pacchetto vediamo un po' non so quali metteranno e ci vediamo subitissimo per continuare questo super mega pack opening così vi saluto con un pacchetto 7.5 ci da un walcott veramente incredibile bellissimo veramente una mor proprio ah ragazzi siamo arrivati al giorno dopo perché stavo aspettando appunto che mi mettevano i pacchetti quelli nuovi mi hanno dato anche ragazzi un pacchetto food champions bronzo però non i mortacci loro quindi ma non so una versione esclusiva food champions di giocatori della squadra della settimana del mese di novembre garantita quindi ragazzi da quello che bene ho capito in questo pacchetto è un pacchetto dove tu troverai sicuramente un'informa della squadra della settimana però non so se è bronzo non lo so regà come funziona o se ti danno un movember però strettamente danno un movember bronzo non lo so ragazzi è un pacchetto che è la prima volta che lo apro poi non capisco però la cosa sono arrivato a oro 2 e mi dai un pacchetto bronzo devi asserci in corpo dammi qualcosa di più carino no? in più ragazzi ci sono i pacchetti quelli promo da 25.000 ce ne sono 10 quindi ci andiamo a aprire in tanti pacchetti questi qua da 25.000 vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosina interessante perché ieri ho trovato solamente un'informa che comunque non è male perché in un pacchetto regalo trovare un'informa anche in forma va benissimo e speriamo appunto regalo sono curioso di vedere in quel pacchetto lì in full champions che cavolo si trova perché non ho ben capito se si trova un bronze non lo so ragà quello che si trova non lo so quindi vediamo intanto qui che ci danno tutti i pacchetti oro ma non ci danno né nulla di interessante c'è un castro direi che almeno non dico tanto ma un'informa carina me lo puoi anche dare mi dà veramente un pacchetto oro grazie dai continuiamo su dammi anche un top player guarda non è che mi fa schifo no niente di nuovo pacchetto oro ci dà un portiere che bello dai su inizia i pacchetti a 25.000 un top player me lo dai un'informa no niente mi danno un altro oro raro cdc grazie di arra veramente lei di una gentilezza incredibile dai top player su niente top player mortacci di bippo di assenati a rea a tt oh pensavo peggio regà me ci guardi e dai che mo stai a tasto marco un'arroi sui pacchetti niente top player ce l'ho sperato regà ho detto oh uniforma però attenzione centrocampista naengolan naengolan ma chi se lo aspettava russia naengolan signori dovevo anche comprarlo per il roto edificio one oppure amsic invece ci dà naengolan buono come er pane regà 400.000 naengolan 500.000 crediti naengolan dovevo comprarlo ma l'abbiamo trovato signori che non me l'aspettavo regà lo giuro non me l'aspettavo ragazzi che andiamo nel club immediatamente ragazzi non me l'aspettavo naengolan buonissimo buonissimo 86 naengolan regà madonna ma che siamo matti ma che spettacolo meno male meno male e mi ha dato oddio regà dovevo anche comprarlo per il roto edificio one non naengolan o amsic ma quindi buono così ve l'ho detto che costava un botto costava quasi 500.000 crediti si vende mortacci dei pippo quanto costa naengolan buono regà veramente sono contentissimo contentissimo un informa ieri per pagare una cagata l'informa di ieri però naengolan di oggi ah che spettacolo ultimo pacchetto poi ci apriamo quello del full champions regà vi giuro non me l'aspettavo proprio buonissimo così naengolan buono 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 oh regà 500.000 crediti cioè madonna mia una cifra quindi pacchetti finiti abbiamo un pacchetto oro regalo vediamo un po' ce lo andiamo a aprire e un pacchetto full champions regà che vi dico la vita non so quello che potrebbe uscire fuori nel pacchetto full champions non lo so regà quindi non l'ho mai aperto è la prima volta che mi si apre un pacchetto full champions e poi già è partita la nuova stagione la nuova weekend league ragazzone quindi devo cercare arrivare almeno ai primi posti signori pacchetto champions full bronzo non so se ci danno un giocatore bronzo in forma oppure se ci danno non lo so non so quello che mi esce fuori andiamo qua per la prima volta ci apriamo un pacchetto full champions è rosso attaccante perché è rosso è bronzo bustle perché cosa è un giocatore rosso che bordista cosa è spettacolare è bronzo ma è bellissimo va bene sti cavoli sono contento lo stesso non posso ne scartarlo ne niente lo mandiamo nel club va bene va bene penso se prendi quelli oro quelli spettacolari signori questo pacchetto è giunto al termine io ovviamente spero vi sia piaciuto abbiamo aperto un pacchetto full champions abbiamo tratto 9golan veramente molto easy easy ragazzi 500.000 grid di 9golan vi do lasciare obbligatoriamente ragazzi ma proprio per forza perché questo pacchetto che stavo bellissimo con 9golan pacchetto full champions bella robetta sono molto contento ma pur che altro per 9golan vi do lasciare un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti passate una pagina a facebook nel mio instagram tutti i social le shop trovate qua sotto nella descrizione mi raccomando passateci ci vediamo questa sera 19 con un prossimo video non mancate e ci vediamo domani come sempre bella signori